salve dalle macchie delle coserie sono di buon orario sono già delle 5 di stamattina dopo le abbondanti piogge il terreno si presenta ancora abbastanza umido umido ma nello stesso tempo thunder baccia vedete erba dappertutto adesso con un paio di zap sia con la nostra rampa con un altro piccolo un'altra piccola zappa dobbiamo estirpare queste erba abbastanza pesante si passa prima la rampa poi l'altra zappa a sradicare le radici vedete di questa erba quadrella un'erba molto molto insidiosa perché vedete che è come una pianta praticamente quindi questa diventerà veramente molto copiosa e oltre che fa ombra creerà micosi batteri porta anche diciamo così via tanto nutrimento che sono i peperoni nostri salvatore e vanno aiutati la stessa cosa verrà fatta per la melanzana quindi un paio di ore in questa frescura di mattina anche il pomodoro forse un po di meno fino a giù bisogna fare questo lavoro certosino a togliere tutte queste erbacce la stessa cosa va fatta dall'altra parte ma temo che la farò domani adesso vado avanti così in maniera morbida perché le piantine sono ancora piccoli quindi vanno ragionate con sappe piccole quindi lavoro diciamo così medicoloso ma deve essere fatto in un certo modo ho messo anche del congime a sale vedete metto questo congime che è pieno di azoto puro che serve veramente a dare una bella botta di crescita anche si appresta per la coltivazione biologica e cari cielo costa molto caro ci vuole un chilo ci vuole quasi un euro di anzi ci vuole oltre un euro per un chilogrammo è incalato molto ma basta poco che credetemi che aiuta parecchio io lo metto più o meno nella mezza crescita e dagli la botta attenzione che all'inizio non va messo perché è molto forte potete bruciare e va messo distante e poi in qualche modo ingalzato ma rimane sempre distante dalle radici quindi il lavoro viene in questo modo vedete al centro poi viene ringalzato e poi l'acqua praticamente quando verrà messa lo scioglierà in maniera morbida verso le radici ecco ok io vi saluto alla prossima occasione da michele expert